A Darde ha iniziato un nuovo anno scolastico, ma per le famiglie degli studenti con disabilità i problemi restano gli stessi. L'avvio delle lezioni è partito infatti con una riduzione delle ore di assistenza. I genitori che in caso di disabilità grave si sono visti ridurre il servizio da 10 a 8 ore a settimana sono stanchi e chiedono chiarezza. Noi personalmente abbiamo avuto un taglio di due ore per l'assistenza all'epac di nostro figlio. Sembrano poche, ma sono tantissime. Il disagio è principalmente che tante volte mio figlio deve uscire prima da scuola. E' inconcepibile che ancora non abbiamo una risposta certa e precisa. Già abbiamo iniziato l'anno scorso a gennaio col taglio delle ore, ci si è ripresentato in questa cosa. Ormai la scusa della colpa dell'amministrazione precedente è diventata una risposta di default. Non è una questione di non farsi trovare pronti, è proprio una scelta precisa. E questo è quello che noi non capiamo perché essendo una situazione che si è già verificata a gennaio di quest'anno, la stessa identica situazione in cui trovandosi inaspettatamente a corto di fondi per coprire le spese necessarie, poi c'è stata tutta una procedura e comunque per un periodo i ragazzi sono stati con un'assistenza ridotta. Ora il problema principale è che qualunque sia l'esito di questa vicenda, quei soldi agli operatori non verranno dati mai più, quelle ore di assistenza ai ragazzi non verranno mai recuperate, non è qualcosa che si può recuperare con gli arretrati. I consiglieri di Ardea Domani, Luca Vita e Nico Martinelli, da circa due settimane hanno richiesto una commissione consigliare dedicata esclusivamente a questo tema, ma non hanno ottenuto nessuna risposta. Quello che noi denunciamo è proprio questa inerzia dell'amministrazione comunale che si accompagna anche a una incapacità di comunicazione, per cui ci sono famiglie che di fatto oggi si trovano senza sapere esattamente questi tagli, quante ore interesseranno, se saranno definitivi o non saranno definitivi, è un'amministrazione che non riesce a risolvere in maniera strutturale il problema perché il rischio è che poi l'anno prossimo ci troviamo di fronte ad altri tagli. Un altro dei problemi che abbiamo in questo nuovo anno scolastico è che oltre al servizio EPAC i comuni dovranno fornire anche il servizio di comunicazione aumentativa, un servizio che la regione ha delegato ai comuni e che ad oggi, ormai al primo novembre, non abbiamo traccia da parte dell'amministrazione di quali saranno le scelte. Non c'è un affidamento, non c'è una gara, non c'è nulla e i ragazzi probabilmente arriveranno a Natale senza avere questo servizio.